Passiamo ora a quella che considero la migliore scoperta di questo video, ovvero Ultra Haven di Keiichi Koike. Mi sento già in colpa a farvelo scoprire perché dovete sapere che Ultra Haven non solo è stato interrotto in Italia a due volumi, ma è stato addirittura interrotto in Giappone a tre volumi. Dal punto di vista visivo, per me pareggia tranquillamente con manga celebri ed incredibili come Akira. In tanti aspetti, infatti, il tratto di Keiichi Koike mi ha ricordato Otomo. I protagonisti di Ultra Haven, infatti, si trovano immersi in questo futuro fantascientifico in cui l'utilizzo di moltissime droghe è completamente normato, legalizzato. Guardate questa coppia di tavole incredibili.